E allora eccoci tornati in studio, nuovamente una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti nello studio di TV7 Match che questa sera ospita, ospitiamo anche noi le celebrazioni per i 1600 anni della Fondazione di Venezia. Lo facciamo assieme a degli ospiti che abbiamo in studio, che torno a presentare, l'Avvocato Giorgio Suppiei, Presidente dell'Associazione Venezia Serenissima, l'Avvocato Alessio Morosin di Indipendenza Veneta e Edoardo Rubini che è uno studioso e un esperto della storia della Repubblica Serenissima. Germano, ieri 25 marzo, celebrazioni e tutti sono diventati amanti di Venezia. Non lo so, lo erano probabilmente anche prima, ma è una buona ricorrenza per ripercorrere in un attimo cosa è stata Venezia e cosa rappresenta oggi Venezia e quali problematiche Venezia ha vista la gestione che c'è in questo momento di questa città che è sicuramente fuori ogni tempo massimo e quindi ripetiamo, torneremo sulle problematiche e torneremo a vedere. Ma incominciamo la televisione con un contributo che è un contributo eccezionale perché la canzone di Venezia, la voce di Venezia sono le campane che suonano a mezzogiorno. Proviamo. Salve a tutte e a tutti, siamo in Piazza San Marco oggi in attesa che suonino le campane per celebrare i 1600 anni di Venezia. Abbiamo scelto Piazza San Marco dove sentirete suonare prima i mori e poi il campanile di San Marco, famosissimo chiamato Paron de Casa dove c'è una delle campane più amate della città che si chiama la Marangona, l'unica campana che è riuscita a sopravvivere al crollo del campanile e che ancora oggi è la campana che a mezzanotte risuona in tutta la città. Oggi, 25 marzo 2021, sono iniziate ufficialmente le celebrazioni dei 1600 anni di Venezia. Il 25 marzo è il giorno dell'annunciazione. Cosa significa? Significa che metaforicamente Venezia nasce il giorno in cui Cristo si fa carne e quindi metaforicamente Venezia, città celeste, si fa materia. E questa simbologia dell'angelo la ritroviamo molto spesso sia nel ponte di Rialto sia, come cercherò di fare, magari riuscite a vederlo, vedete come smentola la bandiera di San Marco in cima al campanile c'è un angelo, è l'angelo annunciatore, l'angelo che annuncia il destino di gloria della città. Oggi riusciremo a sentire, immaginate, vi faccio vedere anche Piazza San Marco, la quantità di persone che sta aspettando, sta aspettando di condividere tutti insieme un giorno che, se è vero, eccolo, buon compleanno Venezia. Ecco, questi rintocchi che hanno, come dire, salutato questa ricorrenza in tutta la città di Venezia, ricordando quel lontano 421, 25 marzo 421, è una data simbolica, no? Cioè, su piedi c'è un… Emozionante sentire le campane a Venezia, io ero lì in Piazza San Marco ieri e i veneziani riconoscono il tocco della marangona che è diversa dalle altre, è straordinario perché è quella che segnava la cadenza degli orari di fine turno in Arsenale, quindi particolarmente sentita da tutti e da allora suona sempre e ha un suono diverso da quello delle campane. Dico, importantissima questa data del 421 e poco importa se sia simbolica e se oggettivamente qualcuno andò fisicamente a mettere la prima pietra la mattina o al mezzogiorno del 25 marzo, è il simbolo che giustamente avete ricordato voi, cioè l'annunciazione e che trae origine non soltanto dalle valenze cristiane successive, perché nove mesi prima del 25 dicembre di Natale è il concepimento e quindi l'annunciazione e questa simbologia è fortissima anche in termini attuali, ma trae origine anche da una questione più antica, gli antichi veneti erano legatissimi al rito della terra e tanto è vero che noi abbiamo il capodanno veneto e l'anno veneto, more veneto comincia a marzo e non comincia al primo di gennaio, erano legatissimi ai miti della terra ed è la nascita della stagione, la primavera con la fioritura, con il mondo della natura che riparte, insieme anche a un'attenzione per il marzo, nelle ivi di marzo e anche a Burbecomdi, dalla nascita di Roma eccetera, traggono origine da quando parte la storia della natura, quindi queste simbologie sono fondamentali, bene che sia il 25 marzo del 421 circa, bene che ce ne ricordiamo con queste simbologie in senso moderno e futuro, poi se abbiamo tempo discuteremo di quanto è vero, di quanto sono le tradizioni che ci hanno portato a quella data, che hanno pur sempre una bella validità storica, anche se gli archeologi hanno dimostrato che insediamenti in laguna di Romani c'erano anche prima e gli studi di Ernesto Tannal sono quelli che ci aiutano a comprendere meglio cosa esisteva di reale. Avvocato Morosin, Unicipit su Venezia e la ricorrenza? Guardi, io quando parlo di Venezia mi emoziono, mi emoziono perché suscita in me una ragione di rispetto, è talmente grande questa realtà che mi sento piccolissimo, è una realtà complessa, è una realtà di una ricchezza infinita, una realtà che stimola studiosi ancora oggi ad approfondire come si è potuto realizzare questo fenomeno non solo ambientale, perché è costruita sull'acqua, sulla laguna, sul fango, questi palazzi enormi, altissimi, imponenti, arredati e vissuti con la soltuosità che le istituzioni richiedevano, una visione del bene pubblico che ha sempre avuto prevalenza sul bene privato, cose che ancora oggi abbiamo difficoltà a capire. E a me piace, guardi, ho portato un libro del carissimo amico l'avvocato Ivone Cacciavillani, perché ci sono delle citazioni, lui l'ha richiamando in Maranini in questo libro, secondo me il Maranini la descrive nel modo più ricco possibile, dice che Venezia è del tutto fuori del suo tempo, un anacronismo vivente, potremmo fermarci qua, un anacronismo vivente, perché è interpretato attraverso le sue istituzioni, la sua storia, le sue leggi, la sua capacità di fare anche politica, la diplomazia veneziana era una diplomazia prima al mondo, ha fatto scuola al mondo, ha saputo essere un anacronismo vivente, un qualcosa ancora oggi che molti si chiedono come hanno potuto realizzare tutto questo, perché si è realizzato tutto questo, in una realtà come quella delle terre lagunari dove la gente all'inizio si è rifugiata per rifugire, probabilmente per sottrarsi alle aggressioni dei barbari e poi è riuscita a creare questo fenomeno. Perché abbiamo perso questa tradizione del fare? Professore non mi rattristi, non è che l'abbiamo persa, ce l'hanno fatta perdere, perché ho visto anche i festeggiamenti, lei fa bene a dire questo e la capisco, anzi io sarei più ancora pungente, ci hanno trasmesso un'immagine della nostra terra, della nostra città capitale, del nostro veneto, di un popolo, di una comunità che ha una radice identitaria di valori fortissimi che non sono fortunatamente ancora estirpati, che ancora oggi lascia il credo, in questo libro potrei citare due o tre cose, per esempio 300 anni fa, 1721 c'era la Repubblica, andiamo a vedere le prigioni a Venezia anche nel servizio della TV di Stato recentemente illustrata come un luogo di tortura. No, Venezia ha abolito la tortura e gli strumenti di tortura nel 1721, 300 anni fa. L'Italia, sapete quando ha introdotto il reato contro la tortura? Nel 2017, con l'articolo 613 bis, 2017 dico, e Venezia l'ha abolita e ha disposto anche la distruzione degli strumenti nel 1721. Per dire uno, ma tante altre cose, l'organizzazione del processo, la serietà delle istituzioni. La tempistica del processo. Bravissimo, la tempistica, anche qua Cacciavileni richiama, il processo doveva essere celebrato entro due mesi, due mesi, tre mesi se era d'oltremare, quindi dei territori, chi arrestava, la signoria che avesse dovuto arrestare una persona macchiata di un reato, doveva entro tre giorni portarla davanti all'autorità, altrimenti subiva un processo. Il giudice che entro i due mesi o i tre mesi non celebrava il processo, era processato immediatamente e veniva condannato, dice Cacciavilleni, poteva essere fino a una somma di 500 ducati, che era una somma enorme, era il valore di un palazzo quasi, e funzionava perché avevano creato dei meccanismi, quelli che nel moderno linguaggio giuridico, che viene sempre citato, sono i check and balance, usando un'espressione americana, inglese, cioè il bilanciamento dei poteri, quale miglior bilanciamento poteva fare la Sirenissima con le cariche a tempo ridotto? Sei mesi, un anno, due anni era una cosa eccezionale, una cosa rarissima, due volte si poteva accedere alla stessa carica e poi basta, con la responsabilità, se il professor Kasen avesse designato a me una carica e io avessi fatto una mascalzonata, un errore, avessi fatto un danno alle istituzioni, rispondeva anche lui con me, cose che oggi sono incomprensibili, ecco perché come dice il Maranini e cita Cacciavillani, è un anacronismo vivente, non siamo ancora in grado di capirla. Certo, ma la problematica è abbastanza complessa, perché c'era la certezza del giudizio, non solo la certezza della pena, giusto? Prego. Sì, bisogna dire che noi siamo entrati in un'ottica moderna, soprattutto col diritto penale, con Cesare Beccaria e l'idea fondamentale… Era il nonno di Alessandro Mangione. Esattamente, quindi l'ambito culturale quello milanese, tra l'altro quando viene pubblicato dei diritti e delle pene la Repubblica Veneta lo fa sequestrare, per un motivo molto semplice, che in quegli anni c'erano dei disordini sul piano politico, si temeva che Beccaria fosse collegato soprattutto con Angelo Maria Chioquerini. Vuole spiegare ai nostri disperatori se Chioquerini chi è? Era un nobiluomo di grande levatura che aveva proposto delle riforme molto ardite. Del tipo? Aveva già un'impostazione progressista, quindi voleva una più forte giustizia sociale, voleva ridurre i poteri delle magistrature. Le sue opinioni non erano buone, a mio giudizio. Io sono un po' conservatore. Santo Maso d'Aquino, per esempio, nel 200, dice che bisognerebbe evitare il più possibile di fare riforme. E quando il politico pensa di farle, dovrebbe analizzare attentamente la questione, essere sicurissimo che le innovazioni portino molti più vantaggi del sistema da abbandonare, perché lui osserva che soprattutto il popolo viene sempre sconvolto, viene disorientato dalla novità. Quindi quando noi facciamo un'innovazione paghiamo una specie di impegno. E quindi, dice Santo Maso, dobbiamo essere certissimi che la nuova norma sarà migliore, porterà molti più benefici, perché andiamo a rompere una tradizione. Ecco, quindi la Repubblica Veneta è estremamente tradizionalista. Le proposte del Querini... Ma al momento è tradizionale, sembrerebbe un aspetto negativo, essere troppo tradizionalista. Oggi lo è. Ma in realtà, calato nell'epoca in cui c'è la Repubblica, ed è una Repubblica, e attorno alla Repubblica ci sono gli imperi, i regni, i principati, i conti, i baroni e tutto il resto, a Venezia non ci sono. E allora è una Repubblica che è centinaia di anni avanti rispetto. Quindi una riforma di questo tipo di Repubblica può diventare pericoloso. Professore, io mi sono laureato sullo studio metodico della legislazione Veneta, e le dico che succedevano delle cose incredibili. Prima di tutto, la Repubblica non aboliva mai leggi. Loro facevano correzioni. E addirittura, cosa facevano? Le leggi che loro consideravano oramai superate, le mettevano da parte. Le dimenticavano. Perché la Repubblica ha cominciato a fare legislazione scritta, molto importante, a partire dal 200. E la cosa sorprendente è che loro trovano dei modi empirici per mettere ordine. Per esempio, vengono fatti dei manuali giuridici che sono pratiche, le chiamavano. E questi si rivolgevano sia ai giudici che agli avvocati. E quindi procedevano a periodici riordini. Tuttavia, quando entravano in una materia, si premuravano sempre di verificare cosa era stato legiferato nel passato. Abbiamo richiami a leggi di 200, di 300, a volte di 500 anni prima. Ma lei non pensa che ci sia qualche altra nazione al mondo che ha copiato dal metodo di applicazione delle leggi veneziane e della correzione delle leggi? Perché ricordiamo che la lingua veneta, che non è un parlarci sopra, diciamo, la lingua veneta era la lingua più parlata d'Europa. Era l'inglese dell'epoca? Sicuramente sì. Ecco, non solo. Ma il commercio era legato alla scrittura e al parlato veneto. Io ho scosso su questo argomento, che fa parte pur dei 1600 anni, perché l'importanza della Repubblica Veneta non è soltanto le pietre, ma il tessuto sociale, il tessuto amministrativo e il tessuto giuridico che ha sorresto per 1600 anni. Il commercio è basato sulla certezza, altrimenti il commercio diventa truffa. Se facciamo un paragone con l'ordinamento giuridico moderno dello Stato italiano nostro, qua ci vorrebbe Giustiniano, che fa una codificazione ex novo, perché è uno Stato che fa quasi 500.000 nuove norme all'anno, perché questo è il numero delle norme, e che le richiama con il comma 5 come modificato e riportato. E con una finanziaria che è di un articolo e poi ne mette degli altri che non c'entrano niente. E' uno Stato giuridicamente incivile, mentre viceversa l'ordinamento giuridico veneziano è straordinario perché ha precorso i tempi, con la conoscenza dell'uomo, ha applicato. E quindi avevano una profonda attenzione alle necessità, anche pratiche del commercio, ma anche quelle sostanziali nel diritto penale, le regole morali e seguire appunto il rispetto anche della tradizione giuridica sui diritti reali del diritto romano che entrava a far parte per la finestra. Ma chi copia da Venezia? Ecco, ma, ha cominciato col Ber, primo ministro del Re Sole, a copiare dagli statuti veneziani e da alcune regole di organizzazione soprattutto amministrativa dello Stato, di come si faceva funzionare uno Stato in maniera efficiente. Il diritto anglosassone è molto simile. E' molto simile, ha lo stesso sistema di applicazione delle leggi, non le accantona. Cioè, il diritto commerciale in particolare. Prego. Il diritto commerciale è quello che noi pensiamo, no? Che sia tutta invenzione anglosassone. In realtà, come diceva lei bene, professore, trae, va a prendere, a costruirsi proprio sull'esperienza veneziana, no? La regina, l'imperatrice inglese, la regina di Inghilterra, scriveva al doge in lingua veneta, perché temeva di non essere capita. Ecco, allora, gli Stati Uniti prendono spunto dal diritto anglosassone, ma anche a sua volta prende spunto dal diritto veneziano. Anche le parole, professore, considerate, per esempio, il cargo, no? Sentivo recentemente, adesso c'è una nave che si è incagliata sul canale di Suez, era un cargo. Fortunatamente non sul canale di Petrogli. Sì, e diceva, no? In televisione, anche addirittura con l'accento un cargo, sembra quasi che la parola fosse francese se non anglosassone. In realtà cargo deriva da quel bastimento, quella nave, che era piena, carica appunto, e quando partiva diceva, è il va, è il se cargo. Certo che è carico. E' un'espressione veneta. Quindi sentirlo dire in televisione fa venire veramente rabbia, no? Cioè abbiamo dato vita anche alle parole che ancora oggi sono usate, alle leggi, alle... Cioè, a proposito di leggi, diceva bene l'Avvocato Suppie prima, che è una cosa interessante. Non c'erano gli articoli e i commi. E addirittura parte della legge era la sua illustrazione iniziale, quella che oggi è in relazione al testo di legge. E la ritenevano quasi più importante del testo stesso. Perché? Perché uno deve capire perché c'è una legge, in base a quali principi si vuole regolare un fenomeno. Quindi quasi la parte, chiamiamola così, dispositiva, precettiva, per usare un linguaggio paragiuridico, pseudogiuridico, diventava quasi irrilevante. Tu devi sapere perché noi vogliamo che si rispetti questo principio. Quindi il principio viene dopo. Vale la filosofia, l'etica, le regole, le ragioni per cui quel principio viene dettato. Questa è una cosa di una bellezza straordinaria, lo dice sempre Cacciavillani, che non siamo in grado di capire. Poi era un sistema, ed ho finito, di common law, in anzitempo. Perché non serviva il comma, come diceva bene l'articolo? Perché c'era il precedente giurisprudenziale che guidava poi il giudizio. Quindi non abbiamo bisogno, come nei codici attuali napoleonici in Fausti, che ci hanno portato alle contraddizioni anche al massimo livello della giustizia di legittimità. Le sezioni unite che devono sempre mettere riparo alle contraddizioni. Perché chiunque, il qui visto il popolo, l'umino della strada, sa che se ruba la bicicletta, per fare un esempio, si prende due mesi. Il giudice che applica la legge, che si trova un caso concreto, sa che deve dargli due mesi. Non deve dargli uno con l'attenuante, tre con la gravata. No, due mesi te li prendi e basta. Quindi non serve un giudice, autorità superiore, che va a interpretare la norma generale ed astratta, che solo lui sa interpretare, che solo lui sa vedere. E quindi la gente non sa nulla rispetto alle norme per paura. Quando tu invece conosci già la sanzione, la rispetti il precetto perché lo conosci. E sai addirittura perché è stato creato, perché la legge è preceduta dalla motivazione. È una cosa bellissima. Pur sapendo fare anche le codificazioni, perché quando c'erano norme confuse, il primo codice organizzato è il codice per la Veneta Marina Mercantile, organizzato in sensi moderni, cioè la riraccolta delle norme in funzione con un sistema organico. Ed era dai tempi del Corpus Iuris di Giustiniano che non si metteva a mano a una materia così importante in maniera organica, in maniera da fare un testo. Però volevo dire solo una cosa. Abbiamo un'indicazione precisa sull'interesse che all'epoca della regina Elisabetta I c'erano interessi sul diritto veneziano. Al punto tale che abbiamo un grandissimo autore di tragedie e di commedie, che è Shakespeare, che parla proprio del mercante di Venezia che finisce con il processo per quel famoso fetta di carne che è stata data in garanzia di un prestito che era, diciamo così, una sorta di scherzo ma poi diventa una tragedia. A rischio scadenza la Libra. E gli si ritorse contro. E ad appoggio del diritto veneziano vengono a Padova all'università a studiare la cosa. Ma quello che impressiona di più è cercare di dare il giusto peso alla condanna, anche se quello che aveva il diritto della famosa Libra di carne forse preso da una certa voglia di vendetta esercitava giustamente il suo diritto ma naturalmente era eccessivo. Prego. Sulle opere di Shakespeare spesso si apre lo scenario del giudizio dentro la Repubblica. Tuttavia... Vuol dire che il diritto di Venezia è arrivato fino a Londra. Esatto, il mito, l'ammirazione per la giustizia veneto. Io vedo però che, nel rappresentazione che ho seguito, Shakespeare è molto impreciso. Cioè lui non è realmente mai venuto qui da noi e non ha una conoscenza profondita del processo veneto. Tuttavia è chiaro il ragionamento che fa che se nelle sue opere insistentemente ne ambienta quattro in terra veneta l'ammirazione era fortissima. Come è vero dell'uso per esempio della lingua, a cui accennava anche l'avvocato, nel Mediterraneo i commerci vengono regolati con questa lingua franca, questa lingua internazionale che si afferma che è un impasto di più linguaggi e quindi dentro c'è un po' di veneto, un po' di catalano, un po' di greco, un po' di arabo però il substratto più forte è proprio quello veneto. Quanto pare nella corte turca il sultano ammetteva solo due tipi di linguaggio il turco e questa lingua franca veneta, sì che gli ambasciatori stranieri che volessero trattare con la diplomazia turca dovevano usare uno dei due sistemi linguistici e quindi in sostanza già da quello si vede la forza che la Repubblica esercitava nell'attività pratica sia dei commerci che della navigazione giustamente ricorda l'avvocato, la gran parte del gergo marinaresco ancora si riferisce alle parole storiche del veneziano oggi vengono chiamati italiano ma in realtà sono veneziano allora interrompiamo un attimo, passiamo in pubblicità e poi riprendiamo la nostra trasmissione